Il servizio quadriennale di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti a bordo delle navi che fanno scalo nei porti di Milazzo e Messina continuerà ad essere gestito dalle imprese Pippo Pizzo, Nofar Ambiente SRL e Gestesco Scarl. Così ha deciso il Consiglio di Giustizia Amministrativa, azzerando una sentenza del TAR di Catania emessa nel 2021. Il ricorso a CGA è stato presentato dalle due imprese aggiudicatarie, rappresentate dall'Avvocato Natale Bonfiglio, contro l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, la Mare Pulito SRL, rappresentata dagli Avvocati Fabio Saitte ed Alessandra Processo e l'Auto Trasporti Fratelli Sacca SRL. La vicenda giudiziaria si riferisce al Decreto 88 del 12 giugno 2019, con cui il commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale aveva indetto la procedura di gara per l'affidalmento del servizio. Alla gara parteciparono solo i raggruppamenti temporanei di imprese, Pippo Pizzo, Nofar Ambiente SRL e Gestesco, che si aggiudicarono l'appalto. E l'Auto Trasporti Fratelli Sacca, Mare Pulito SRL. Nel 2020 fu firmato il contratto di concessione. Successivamente l'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto aveva invitato la Gestesco a garantire la presenza di tutte le unità navali offerte all'interno del porto di Milazzo, ma l'impresa ribadì che avrebbe garantito solo quelle previste dal contratto. Così, nel gennaio 2021, fu avviato il procedimento di risoluzione del contratto e la revoca del decreto di aggiudicazione. Le due imprese aggiudicatarie fecero ricorso al TAR, che aveva rigettato le loro istanze. Il CGA, invece, accogliendo l'appello dell'ATI, ha ribadito come, in riferimento all'utilizzo dei mezzi navali contestato dall'Autorità Portuale, non sia stata dimostrata l'impossibilità di svolgere correttamente il servizio richiesto presso lo scalo portuale di Milazzo, e che dunque non vi sia prova che il concessionario sarebbe venuto meno alle proprie obbligazioni contrattuali. Annullato quindi il decreto con cui si è proceduto alla risoluzione del contratto di concessione e alla contestuale revoca del decreto di aggiudicazione. Le imprese Pippo Pizzono, Fra Ambiente SRL e Gestesco Scarl potranno quindi proseguire a gestire il servizio.